La vita perdona, Uri, è una minaccia da Sussi, un grave scelto, aspettamolo creaturo. La vita perdona. È tutto a posto, non preoccupare. È tutto a posto, non preoccupare, ma la parte già cominciava con c'è cosa. Hai sbagliato, non vieni, ma così è così complicato. Questo non viene a fare con il genere. È verità. Ma passa roba sui, come fa crescere, ha rubato il tavolo, come molto buono. Sei pulito, potete pure chiamare, stavo parte in questa mattina con l'occhio. Tu sei una carta, Gianni? Sei pulito, ricerà così. Io pensavo che la mia figlia se la fotteva. Tu sei più buono con il gioco che è. Questa dichiarata,ianni mesi. Tu sei più buono con il gioco. Eru e l'opportunità, che ritornano! I ric килografici al piano che fa ferito. Tutto... Tutto tutto... Tutto tutto il ragazzino. Tutto l'hoко know. Tutto che i luizori κάνono. Grazie.